Buonasera a tutti, è veramente un piacere per me aprire questa nona lezione di politica. Ringrazio i nostri ospiti che fra un attimo introdurrò. È la nona lezione della scuola di formazione del Movimento 5 Stelle e come sapete si inserisce all'interno di una serie di attività formative che il Movimento ha iniziato il mese scorso e che vede la costruzione di quattro grossi moduli di diritto, di economia, di transizione ecologica e di Europa. Si tratta di 12 lezioni per ognuno di questi moduli per 48 ore che stanno andando avanti da febbraio fino a maggio con docenti, professori universitari, esperti di chiara fama. Questa sera apriamo una lezione speciale, una lezione magistrale, un dialogo seminariale, potremmo definirlo, su un tema che è quello della sovranità, del rapporto con la politica. Lo faremo con tre illustri ospiti, con tre studiosi, con professori ed esperti di chiara fama, anche qui, che con i loro studi, con i loro scritti, con le loro ricerche che hanno alimentato il tema di cui parliamo stasera. Il primo a parlare sarà il professor Nello Preterossi, che è professore ordinario dal 2013 di filosofia del diritto presso l'Università degli Studi di Salerno, già componente del Comitato Scientifico dell'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici di Napoli, e nel 2023 nel suo direttore scientifico. È stato curatore del Festival del Diritto di Piacenza, partecipa al Festival della Filosofia di Modena, è membro del Comitato Direttivo della rivista Filosofia Politica e dei Comitati Scientifici di Teoria Politica, Politica e Società e Iurazientium. ha scritto tantissime opere scientifiche soprattutto, ma vorrei qui ricordare i suoi lavori editi soprattutto dalla terza, L'Occidente contro se stesso nel 2004, La politica negata nel 2011, Ciò che resta della democrazia nel 2015 e Teologia, politica e diritto recente appunto nel 2022. Il successivo relatore a parlare sarà per noi Marcello Veneziano, che ha fatto e proviene da studi filosofici, ha fondato e diretto le numerose riviste, tra cui l'Italia settimaniale e lo Stato, ha scritto sui vari quotidiani settimanali, dal Corriere della Sera, La Repubblica, La Stampa, Libero, Il Messaggero Panorà, ha scritto a lungo sul giornale, chiamato da Montanella e poi da Feltri, dove ha tenuto per anni la rubrica in prima pagina QQ. Ha scritto vari saggi, tra cui la rivoluzione conservatrice in Italia, processo all'Occidente, comunitari o liberal, di padre in figlio, elogio della tradizione, la cultura della destra e la sconfitta delle idee, tutti editi dalla terza, e poi ancora i vinti, rovesciare il 68, Dio, patria e famiglia, dopo il declino, editi da Mondadori. Recentemente Veneziani ha, in qualche modo, anche ampliato il suo campo di studio e di ricerca, e all'interno di questo cambiamento, che ormai è da anni che prosegue, ha scritto un libro molto bello, che si intitola L'amore necessario, la forza che muove il mondo, di Marsilio, praticamente uscito qualche giorno fa, nel 2024. Infine, last man on list, come direbbero gli inglesi, la professoressa Laura Lanzillo, professoressa ordinaria di storia delle dottrine politiche, all'Università di Bologna, visiting professor all'Università di Montreal, e fra i suoi interessi di ricerca, annoveriamo il pensiero politico francese, l'indagine su specifici concetti e dottrine, lo studio delle passioni politiche, il nesso tra paura, rischio e sicurezza, utopia e distopia. Autrice, anche lei, di numerosissime pubblicazioni su riviste scientifiche e presso rilevanti case editrici, anche, come dire, più divulgative. È direttrice responsabile di filosofia politica, direttrice scientifica di governare la paura, Journal of Interdisciplinary Studies, e tra le sue opere, che mi sento di suggerire, che hanno, quindi un approccio più ampio e un editing più divulgativo, annoveriamo, Toleranza del 2002, edito dal Mulino, Multiculturalismo nel 2005, la terza, ha curato la libertà, anzi, libertà, nel 2008, e anche, nel 2020, Figure del potere, saggi in onore di Carlo Galli. Ecco, questi sono i nostri ospiti questa sera. Un applauso per loro. E adesso mi siedo un attimo anche per introdurre un tema complesso, ma due minuti soltanto, perché non è me che sentirete parlare di questi temi, ma soprattutto, appunto, i nostri studiosi. Io, come sapete, non mi occupo di teoria politica, sono un umile economista, quindi sono molto più freddo, come dicevo, ai nostri amici qui stasera. Però, come dire, mi piace partire e dare come riferimenti anche ai nostri ospiti, che comunque saranno liberi di trattare il tema dall'approccio che più sentiranno loro, mi sembra di poter delineare, all'interno del nostro dibattito, due articoli fondamentali della nostra Costituzione, all'interno della quale si possono racchiudere limiti e anche si può espandere il concetto di sovranità. L'articolo 1, così li cito io, perché poi voi non li possiate più citare, se volete vi faccio il lavoro, didattico, diciamo così. L'articolo 1, l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro, la sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Ecco, l'articolo 1 in un senso positivo, estensivo della sovranità, in qualche modo viene limitato tuttavia dall'articolo 11, probabilmente proprio nell'esigenza di evitare quelle degenerazioni sovraniste e nazionaliste. L'articolo 11, che conoscete, recita l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli, e come mezzo di soluzione delle controverse internazionali, consente, in condizioni di parità tra gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie, ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni, promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a talo scopo. Ecco, questi mi sembrano, come dire, due articoli molto generali all'interno del quale il dibattito potrebbe anche essere compreso, o quantomeno i limiti e l'estensione del concetto potrebbero essere compreso. Io lascio subito la parola al professor Nello Pretorossi e vi auguro a tutti un buon dibattito. Buonasera, grazie dell'invito. Credo sia importante il fatto che ci siano delle occasioni di discussione aperta, critica, anche fra posizioni diverse, su temi di fondo, sui quali spesso c'è un atteggiamento così demonizzante o molto semplicista, semplificatorio. Uno di questi temi o concetti controversi e in qualche modo maledetti sembra diventato appunto quello di sovranità, no? A lungo la sovranità non si è potuta neppure nominare nell'illusione che non nominandola il problema non ci fosse. La sovranità c'è, c'è come sfida, come problema, c'è ancora di più se la sovranità la si perde. E ora cercherò di brevemente di dire perché. Introducendo questo libro, faccio pubblicità dalla terza, ma più che altro faccio la pubblicità a un grande autore, c'è Dieter Grimm, che è un grande costituzionalista tedesco, un maestro del diritto pubblico, introducendo questo libro sulla sovranità appunto, che è una presentazione generale del tema e anche una dimostrazione della sua attualità, della sua persistenza, io sottolineiamo un punto, cioè una cosa è la sovranità, una cosa è il sovranismo. Sgombriamo il terreno da un grande equivoco. Il sovranismo non esiste come categoria scientifica seria, fondata. E' un termine coniato molto di recente per stigmatizzare il movimento di Marine Le Pen. Cioè, polemica politica, cronaca politica direi persino, molto recente. Il concetto di sovranità è il concetto cardine della modernità politica e giuridica. Quindi è il fondamento dello Stato moderno. Dire sovranità significa dire Baudin e Hobbes, tanto per capirsi. Sono due cose molto diverse. La sovranità si è trasformata fortemente nel corso della lunga vicenda dello Stato moderno, cioè dal 5-600 a oggi. Ma non è sparita. Uno dei meriti di Grimm è quello di dire guardate, nello Stato costituzionale la sovranità si farà anche latente perché nella normalità dei rapporti istituzionali della vita politica quotidiana sta sullo sfondo, ma latente non significa inesistente. Significa che c'è ancora come questione di fondo, come fondamento ultimo, se volete come radiazione cosmica dell'origine. È il segno dell'origine della modernità politica e giuridica, che significa anche dell'origine della laicizzazione del diritto, della neutralizzazione delle guerre di civili, di religione, di tutto quello dell'istituzionalizzazione che si accompagna al processo di costruzione dello Stato moderno. Poi lo Stato moderno in assoluto si fa Stato di diritto fino a diventare Stato democratico e Stato sociale di diritto. Trasformazioni decisive, fondamentali, sofferte. Oggi nostro dovrebbe essere uno Stato costituzionale, del secondo novecento, così è stato definito, un paradigma nuovo ma che è frutto di queste trasformazioni e che mette insieme momento democratico, momento di garanzia delle libertà soggettive, momento sociale, della solidarietà sociale. Cioè senza Stato sociale non c'è inclusione nella cittadinanza democratica. L'articolo 3, il secondo comma, no? L'articolo 3 della Costituzione è il secondo comma che dice che è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli che di fatto rendono impossibile una vera eguaglianza e una piena fioritura umana, una realizzazione piena della libertà soggettiva nella dimensione collettiva. Cioè a tutti rendono impossibile a ciascuno di noi di dare con il proprio contributo, mettere un piccolo granellino nel determinare che cosa? La sovranità democratica. Ecco che arriviamo all'altro punto che mi interessa sottolineare. Sovranità vuol dire due cose. Vuol dire esistenza politica, autonomia politica, innanzitutto dello Stato, ma poi autonomia della politica, delle sue varie articolazioni, quindi anche dei partiti. Se non c'è la sovranità, se non si è sovrani, si è subalterni a qualcuno e poi vuol dire sovranità democratica, almeno da un certo punto in poi, diciamo, cioè da quando il popolo si è appropriato della sovranità che era dei reti, diciamo così, si è rovesciato il rapporto. Siamo sicuri che si possa rinunciare senza problemi a queste caratteristiche di fondo che sono appunto la legittimità dell'ordinamento in cui ci troviamo. Cioè, siamo sicuri che si possa vivere politicamente in modo libero e autonomo senza che esista una collettività politica organizzata, riconosciuta pienamente dagli altri stati su un piano di parità? Ne dubito fortemente. Siamo sicuri che ci possa essere democrazia autentica senza questo momento sovrano popolare? È chiaro che entrambe le dimensioni, sia quella della sovranità statuale che quella della sovranità del popolo, devono incontrare delle limitazioni. La nostra Costituzione lo dice, è stato richiamato prima, la sovranità dello Stato non nel senso però occhio delle eccessioni di sovranità, perché lì si parla di limitazioni in nome della pace e della giustizia tra le nazioni su un piano di parità. Sono condizioni stringenti. Vuol dire che gli altri ci devono rispettare, vuol dire che noi non cediamo definitivamente un bel niente ma accettiamo delle limitazioni che è un concetto diverso e vuol dire che l'obiettivo è la pace e la giustizia tra le nazioni, non l'aggressione al resto del mondo ad esempio. Primo punto da cui mi pare che derivino delle conseguenze rilevanti sull'oggi. Secondo, la sovranità democratica è chiaro che si esercita è il fondamento però si esercita entro i limiti le forme previste dalla Costituzione vuol dire che neppure la sovranità popolare può essere totalizzante e ciò significa che anche il legislatore è sottoponibile a un controllo infatti esiste la giurisdizione costituzionale per esempio cioè c'è un gioco di limitazioni comunque resta che l'indirizzo politico dal popolo cioè noi non è che possiamo utilizzare questa avvertenza costituzionalistica cioè per per capirsi il fatto che il popolo non è onnipotente non potrebbe distruggere le condizioni stesse della democrazia perché sarebbe un uso antidemocratico della democrazia per far passare l'idea che in fondo se i governi sono sostenuti dal popolo o meno non è così rilevante o che l'indirizzo politico può essere un indirizzo tecnocratico travestito da democratico e tanto chi se ne importa vuol dire il principio è fondante vuol dire che ci deve essere sempre una corrispondenza forte tra la volontà popolare che si esprime nella rappresentanza parlamentare innanzitutto e i governi e le maggioranze e che questo flusso di legittimazione non è onnipotente non può fare quello che vuole certo non può violare la costituzione certo figuriamoci ma è comunque il nucleo della politica cioè quello che il popolo vuole attraverso i suoi rappresentanti penserà qualcosa vorrà dire qualcosa non lo insisto perché negli ultimi anni negli ultimi decenni è invalsa l'idea che in fondo il popolo fosse un problema e no? fosse bue fosse non capisse non sapesse bene che cosa voleva secondo me aveva anche capito benissimo che lo stavano fregando e che in qualche modo si bisognasse guardarsene e che più si trovavano meccanismi per disinnescare la sovranità democratica magari tecnocraticamente ad esempio con governi tecnici meglio era ecco un governo tecnico per sua natura è un problema per la democrazia per come la vedo io può essere una parentesi ma non può diventare la forma normale di governo perché vuol dire che sta slittando la democrazia costituzionale cioè sta perdendo il suo apprendamento di recettivazione diciamo e che cosa è successo nel nostro paese non voglio prendere troppo tempo però qualcosina voglio dirlo e bisogna fargli io credo che noi dobbiamo fare un discorso di verità con noi stessi cioè da almeno un trentennio è in valso il vincolo esterno l'idea che l'unica prospettiva per il paese fosse quella di affidarsi a una disciplina esterna a dei disciplinatori esterni l'Unione Europea i mercati la BCE ci sono differenze chiaramente l'idea che i mercati votino io la trovo insopportabile è antidemocratica l'idea che esista il pilota automatico la trovo tecnicamente eversiva guardo Giuseppe mi fermo non dico non aggiungo altro va beh allora andiamo oltre perché perché se c'è il pilota automatico è inutile votare è inutile deliberare è inutile stare qua o no è un discorso populista non credo a parte che un briciolo di populismo serve pure se vuol dire che stiamo appunto dalla parte della sovranità democratica ma no è un discorso credo realista recuperare la politica l'autonomia della politica e il fatto che essa corrisponda in qualche modo alla volontà popolare collettiva implica mettere in discussione una serie di luoghi comuni uno è questa che tanto c'è il pilota automatico tanto la gente che poi che vuol dire che l'agenda è precostituita e non c'è niente su cui deliberare veramente e niente da scegliere è molto triste è umiliante per la democrazia io invece credo che ci sia da deliberare ci siano cose su cui scegliere sarebbe anche opportuno dircelo francamente anche confrontarci a limite anche confliggere e poi prendere delle strade ora questa scelta del vincolo esterno che naturalmente è stata fatta per ragioni complesse anche diciamo perché il paese ha vissuto tanti problemi tanti drammi avviene nel 92-93 ma c'è una genealogia di tutto ciò e secondo me è il nome maggio del 78 è lì la chiave quando la spinta propulsiva della Repubblica si è esaurita ma nel senso che lì è stato compiuto un sacrificio umano nell'intento di stabilizzare un paese peccato che dentro quel corpo politico il tutto sulla base di una verità rivelatasi largamente falsa e contrattata e quella ferita aperta ha infettato il corpo politico questa è una mia te è una mia lettura una chiave di lettura in cui peraltro sto anche lavorando perché credo che bisogna andare alle radici profonde della di quello che accade diciamo nel 92-93 e di questa scelta che cambia l'Italia perché prima l'Italia il paese è uscito sconfitto dalla guerra pur con appunto la resistenza un tentativo di di recuperare uno status no appunto si è pure conosciuto quello di con benigerante però insomma eravamo usciti sconfitto oggettivamente era così ma una relativa autonomia della politica lo dicevamo prima per chiacchierando fra noi l'ha conosciuta basta che nomino Aldo Moro andiamo a vedere ci sono anche degli articoli dei paper degli articoli scientifici l'ho letto uno di recente sulla politica estera di Aldo Moro ministro degli esteri dei primi anni 70 sul Medio Oriente sull'impegno enorme per far passare questa questione dei due popoli due stati e di far far convergere gli altri stati europei su una dichiarazione comune in questo senso cioè c'è un abisso naturalmente lo si faceva anche perché c'era la questione energetica cioè c'erano anche degli interessi del paese era un insieme di cose una visione di fondo strategica sul Mediterraneo e sul Medio Oriente dove c'era una ferita aperta sanguinante che veniva riconosciuta anche nella sua dimensione etica diciamo così e in più c'era anche un problema di equilibri geoeconomici e geopolitici come è giusto che la politica faccia bisogna tenere insieme le due cose ma oggettivamente vogliamo ricordare il discorso di Craxi su Garibaldi e Mazzini che sono cose oggi indicibili eppure vere allora una relativa autonomia della politica c'è stata pur nella fase difficile della prima repubblica ma a certo punto è sparita questa autonomia della politica è sparita si è determinata una transizione verso un altro modello che però non si è nemmeno mai stabilizzato concretamente perché in fondo viviamo ancora in una sorta di lunga transizione non si può dire che sia nato un nuovo sistema politico forte radicato e credibile politico istituzionale come in fondo è stato quello della cosiddetta prima repubblica per trent'anni che era basata su dei partiti che erano delle organizzazioni collettive e che infatti dei cambiamenti l'hanno importanti l'hanno anche realizzato ma l'hanno realizzato il centro-sinistra ricordatevi la scuola unica che cosa ha significato in un paese che era segnato da una profonda disuguaglianza le nazionalizzazioni cioè ora non è che vogliono riabilitare le democrazioni o il centro-sinistra però oggettivamente cose importanti sono state realizzate contro anche gli interessi di molti e anche urtando certi sguardi esterni al paese che vedevano delle cose che andavano sul binario troppo avanzato forse o troppo autonomo soprattutto nella politica estera e energetica e infatti a un certo punto è successo qualcosa sono successe varie cose da Mattei in poi allora il problema è che nel 92-93 si fa una scelta diversa si dice lo sai che c'è per non essere più dipendenti fragili dipendenti da vincoli esterni siccome noi evidentemente l'energia autonome non ce le abbiamo più come paese come classe politica come classe dirigente facciamoci disciplinare da fuori e questa è un'idea sbagliata che è fallita è un disegno politico fallito con questa dura realtà dovremmo fare i punti e se le si facesse veramente forse le lascerebbe sì persino l'esigenza di una vera unità nazionale semmai ti fosse in grado di farti questi conti perché significherebbe riconoscere che c'è da ricostruire le basi di autonomia di un paese e poi riconoscere questo mica vuol dire mandare cararmate al Brennero e rinserrarsi in una in una repubblichetta tutto il contrario anzi vorrebbe dire rilanciare un'autonoma politica estera nelle forme possibili sempre nel quadro delle alleanze cioè vorrebbe dire rilanciare l'internazionalismo io faccio sempre questa considerazione la fase del globalismo alla fase dell'ideologia globalista ha corrisposto il grado zero della solidarietà internazionale io sentivo parlare da piccolino dei palestinesi a Grosseto cioè una cittadina di provincia oggi dei palestinesi rispetto a quello che è accaduto a casa e sui palestinesi c'è un disinteresse generale è vero è normale questo no così come non è normale che ti venga quasi portati così con allegrezza e in una sorta di di ebrezza stupida che rivela stupidità verso una prospettiva che una volta era tabù cioè la bomba cioè lo scontro totale cioè l'escalation della guerra su scala mondiale che non può che risolversi alla fine in qualcosa di distruttivo di estremo senza neppure grandezza cioè uno può vivere tragedie nella storia ma almeno devono essere appunto tragedie devono essere devono avere una loro ci deve essere un senso tragico del momento del rischio estremo che si corre oggi qui stiamo correndo un rischio estremo e stiamo ballando facendo la tarantella è normale questo? no è un problema del nostro paese sì però è anche un problema di altri paesi europei e questo mi inquieta perché vuol dire che è successo qualcosa sul piano culturale chiudo su questo credo di aver già preso abbastanza e poi magari ci torniamo a furia di pensare in una modalità antisovrana si finisce per pensare in chiave spoliticizzante destoricizzante e a perdere anche di vista la complessità della politica la complessità della vita collettiva in un paese e ancora di più nel mondo che è plurale è fatto di tante differenze che dobbiamo accettare e cercare di comporre in qualche modo cioè c'è anche una conseguenza antropologica e culturale in questa fuga dalla politica perché poi la fuga dalla sovranità e la fuga dalla politica diciamo così anche dalle sue asprezze che vanno criticate ovviamente o comunque messe in una si può provare a metterle in una forma diversa ma vanno riconosciute nella loro forza nel loro dato di realtà e la conseguenza antropologica e culturale è che diventa un popolo polverizzato diventiamo che si vive in un pulviscolo che è tutto uguale che non ci sono radici non ci sono identità non ci sono tradizioni non c'è storia non c'è obbediente la storia inizia il giorno in cui ci fa comodo c'è solo il moralismo senza morale che è una compensazione del vuoto di politica però così si finisce purtroppo si rischia di dare ragione alla profezia sul tramonto dell'occidente a cent'anni dopo è un traviamento dall'interno se lo cosiddetto occidente magari che oggi è impaurito è è incattivito perché è in difficoltà perché c'ha la sfida della Cina perché c'è la trappola di Tuscidi insomma tante cose e poi ha perso se stesso non sa dire chi è e questa è la propria più grande se non sappiamo autodefinirci seriamente riconoscendo che le identità sono artifici ma di cui abbiamo bisogno e per definirsi bisogna essere in fondo la mia idea di sovranità è questa è ciò che ci consente di dirci chi siamo e di dirci che esistiamo ma se non facciamo questa mossa non riusciamo più ad avere neppure una cultura di massa adeguata un'estetica una bellezza perdiamo i fondamenti del nostro vivere civile perché non siamo niente siamo solo degli atomi ecco essere sovrani significa essere un collettivo non solo degli atomi grazie 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 Nello vedete la semplicità e la facilità con la quale alcuni studiosi sono in grado di come dire tradurre concetti questioni complesse in concetti molto anche comprensibili ovviamente basato sul proprio studio sulla propria ricerca su anni di elaborazione quindi questo poi consente a Nello così come ad altri studiosi di parlare così con tanta semplicità anche nelle forme in cui le abbiamo sentite e molto molto forti bene direi di passare a Marcello Veneziani io vorrei aggiungere un concetto che magari potrebbe essere ripreso anche dai nostri interlocutori se e quanto pesa se e quanto pesa la sovranità europea in questo e se esiste una sovranità europea e se pesa in qualche modo nei rapporti appunto ma ovviamente Marcello di nuovo sentitevi liberi di impostare come volete la vostra relazione prego si riprenderò questo spunto che ci hai dato e ripartirò da quello che diceva Nello Preterossi che ha fatto una importante utile introduzione teorica e storica al tema della sovranità io vorrei prima partire cercando di definire un po' gli ambiti della sovranità la sovranità ha tre ambiti specifici popolare nazionale e politica la sovranità popolare coincide con la democrazia coincide con la partecipazione altre forme di sovranità non rientrano negli orizzonti della sovranità come la intendiamo nel nostro tempo ed è il primo punto su cui bisogna soffermarsi sovranità popolare la sovranità nazionale è altrettanto importante perché ogni volta che si applica la sovranità a contesti dilatati che non passano attraverso la delimitazione di un territorio di uno stato di una democrazia e allora si perde l'idea stessa di sovranità ecco la sovranità europea ha una sua fragilità perché non passa in realtà da una sovranità né popolare né nazionale è una sorta di potere sovrastante di una elite di una tecnocrazia o buro tecnocrazia che è al di là degli orizzonti della politica e che quindi di fatto si trova ad espropriare i tratti fondamentali della sovranità nazionale quindi è bene che la sovranità abbia una peculiarità popolare nazionale e infine politica è inimmaginabile che la sovranità risponda ad altri criteri cioè la tecnica la tecnocrazia l'economia la finanza si dedicano ad ambiti che sono o specialistici o che riguardano legittimi interessi privati cioè l'unico territorio che riguarda interessi generali e i valori divisi e condivisi è la politica possiamo avere il peggior concetto della politica la peggiore considerazione della politica ma dobbiamo non di meno partire da questa considerazione cioè che la politica è l'unico ambito che si occupa degli interessi generali e dei valori condivisi ma anche divisi nel senso di contrapposti dialetticamente tra gli uni e gli altri quindi questo è un po' l'ambito nel quale la sovranità ha senso viviamo in un'epoca di oscuramento della sovranità naturalmente il motivo principale è che i confini si sono perduti e del popolo e della nazione e della politica che il nostro riferimento è di tipo globale ma tutto questo ha prodotto di fatto una espropriazione della sovranità un'espropriazione che viene spesso in qualche modo collegata a una sorta di teoria ciclica delle emergenze c'è un'emergenza economica e quindi dobbiamo mettere da parte i temi della sovranità c'è un'emergenza sanitaria e quindi dobbiamo mettere da parte i temi che riguardano la democrazia e la partecipazione c'è un'emergenza guerra e dobbiamo mettere da parte questi temi ci sarà magari un'emergenza ambientale ecco sono tutti i motivi che indicano che di fronte a una priorità assoluta si può sospendere la democrazia la libertà la sovranità e quello che di fatto è avvenuto allora l'idea che io ho quando cerco di calare l'idea di sovranità nella politica è che la politica è diventata nell'ambito come dire di una matrioska la bambolina più piccola quella che è dentro altre bambole più grandi perché se andiamo a vedere i poteri decisionali e l'autonomia della politica sono strettamente limitati all'interno di contesti più ampi le direttive europee i patti militari le alleanze occidentali le grandi forze economiche le banche centrali per non parlare poi delle agenzie di rating e di altri soggetti forti che hanno un ruolo peculiare nell'ambito della decisione di fatto la politica decide sempre meno di fatto la politica è stata espropriata e anche io che avevo un giudizio critico in quell'epoca alle volte mi trovo persino a rimpiangere l'epoca dei Moro dei Craxi persino degli Andreotti che costituivano per me un mondo totalmente diverso rispetto ai miei orizzonti politici e culturali ma c'era ancora qualche traccia di sovranità c'era ancora qualche traccia di autonomia e c'era ancora una dignità della politica faccio notare soltanto che la fine indecorosa dei tre nomi che io ho citato addirittura tragica è una dimostrazione ulteriore della loro diciamo distonia rispetto agli scenari che si andavano creando poi gli scenari si sono creati e sembra ormai irreversibile il percorso sembra che non si possa fare nient'altro oggi l'unica volta che si esprime la parola sovrano è a proposito del debito sovrano e questa è una dimostrazione che praticamente che noi usiamo la parola sovrano solo per indicare il suo contrario cioè la dipendenza dei popoli e degli stati nazionali da asset internazionali da situazioni di debito internazionale e quindi sono forme di sudditanza internazionale la sovranità va a farsi benedire quindi ragionando della sovranità noi ragioniamo di un effettivo deficit ora qui io sono parzialmente in disaccordo con Nello Preterossi nel giudizio da dare al cosiddetto sovranismo che è un fenomeno che in effetti non ha una sua diciamo fondazione culturale eminente però bisogna riconoscere qualunque giudizio si ha sul sovranismo bisogna riconoscere un elemento che è una risposta magari inadeguata magari goffa magari retorica ma è una risposta a una domanda effettiva di deficit di sovranità cioè manca la sovranità e c'è bisogno di dare una risposta come risponde il sovranismo ognuno naturalmente è libero di giudicare bene male a mio parere in modo del tutto insufficiente però è un problema reale quello della sovranità non lo possiamo trascurare così come il sovranismo risponde anche a un altro tentativo quello di dare compimento a quel fenomeno che è noto come il populismo il populismo è un fenomeno positivo se indica la partecipazione popolare alla politica e alle scelte di una collettività ma il populismo ha bisogno anche di decisioni cioè ha bisogno di sovranità cioè ha bisogno di qualcuno che interpreti la partecipazione popolare in capacità decisionale quindi in qualche modo è un'istanza di sovranità che è importante almeno quanto quella di partecipazione la politica è quel regno che ha per base la partecipazione per altezza la decisione e per finalità si sarebbe detto una volta il bene comune ecco naturalmente pare utopia ma diciamo è quella diciamo la categoria nella quale dobbiamo ritrovare il senso eminente della politica noi ci troviamo in un deficit di sovranità che è anche un deficit delle caratteristiche della politica la politica è una corda tesa tra conflitto e consenso ed è un momento in cui il conflitto si assopisce o diventa soltanto trash cioè su elementi puramente superficiali e il consenso diventa una variabile secondaria non determinante ai fini delle grandi decisioni e ai fini appunto della sovranità quindi questo è il grosso elemento manchevole della nostra società quindi ci troviamo in questa situazione quindi riprendere il tema della sovranità e riprendere qui sono di nuovo d'accordo con Preterossi e riprendere il tema della politica non possiamo pensare che si possa fare politica a prescindere dalla sovranità con la stessa diciamo fermezza con cui affermo questa tesi dico che però la storia l'esperienza degli ultimi anni ci dimostra che qualunque tipo di governo con qualunque caratterizzazione alla fine è costretto a passare dalle forche caudine che si chiamano direttive europee impatto atlantico la Nato i grandi soggetti internazionali l'economia lo spread e tutti gli altri soggetti reali e surreali che caratterizzano la scena internazionale di conseguenza ho l'impressione che la griglia dei cambiamenti della politica sia molto ristretta e ci siano pochissime possibilità quindi il problema è quello di far rinascere la politica di farla risorgere su tematiche e motivazioni che attualmente non si vedono perché il livello basso della motivazione politica è il segno di un livello bassissimo della partecipazione alla politica e questo è un altro elemento di cui dobbiamo pure interrogarci perché in effetti è un elemento importante un elemento significativo la storia del nostro passato ci aveva consentito pur essendo sempre stata una democrazia a sovranità limitata la nostra ci aveva consentito ancora di sopravvivere quando avevano un ruolo e una relativa autonomia gli stati nazionali ma nel momento in cui siamo entrati nell'ambito europeo e nel momento in cui si è creata una nuova polarizzazione internazionale anche attraverso conflitti internazionali da ultimo quello appunto russo-ucraino e abbiamo perso anche gli ultimi stracci diciamo così di questa sovranità e stiamo accettando un allineamento praticamente totale a questi orizzonti in qualche modo prescritti la politica per arrivare a una conclusione è quel luogo che a volerlo rappresentare visivamente è formato da una piazza dove c'è la partecipazione popolare e un palazzo in cui c'è qualcuno che si assume le responsabilità di governare io ho l'impressione che la politica nella nostra fase sia stata ridisegnata come d'altra parte sta facendo l'Unione Europea a livello proprio di paesaggio come una rotatoria cioè al posto della piazza al posto del palazzo c'è una rotatoria noi giriamo continuamente intorno non abbiamo più contezza delle cose che accadono non abbiamo più un riferimento cioè un palazzo un decisore un sovrano contro cui prendercela preferiamo restare in questa anonima in questa sovranità come potere o come pilota automatico addirittura come potere impersonale e quindi viviamo girando in questa rotatoria come le rotatorie stanno uccidendo i paesaggi locali e nazionali attraverso una uniformità che è fuori dalla realtà la stessa cosa sta accadendo nella politica quindi si tratta un po' di ripristinare il senso della piazza e quindi della partecipazione popolare e il senso della decisione cioè del palazzo e quindi questo è il compito di una politica che deve avere come base la partecipazione come altezza appunto la decisione e come finalità il bene comune altrimenti non è politica quindi credo che questo sia un po' il tema del giorno quindi non c'è analisi teorica sulla sovranità che possa prescindere dalla sua reale concretizzazione storica che è quella che noi vediamo che è sotto gli occhi di tutti la politica è stata di fatto espropriata e parlando della sovranità noi stiamo parlando di un sarchiapone cioè stiamo parlando di un animale inesistente che non riusciamo a vedere nella realtà perché poi alla fine la realtà è sempre attraverso un processo diciamo così di decisioni io devo dire qui mi concludo davvero l'ultimo pensiero che io non credo ai complotti internazionali al grande vecchio del mondo a qualcuno che decida credo che ci sia un processo che come carlo smith definiva di reazione a catena cioè avvengono dei fenomeni un po' per assimilazione non c'è un grande architetto che decide queste cose sta diventando anonimo il potere ma perché il potere della tecnica è un potere anonimo e la tecnica sta sconfiggendo la politica come ha sconfitto la cultura come sconfigge l'intelligenza umana quindi è pericoloso questo avvento dell'impersonalità dell'anonimato rispetto alle responsabilità della politica che hanno sempre un volto una faccia una storia un'identità e anche un popolo grazie grazie Marcello Veneziani vedete anche qui come la sintesi espressa dallo studioso con questa metafora molto interessante di una piazza e di un palazzo io ci ho visto molto proprio l'articolo 1 della Costituzione appunto la sovranità appartiene al popolo la piazza che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione nel palazzo e quindi anche qui c'è una interpretazione che mi sembra molto ragionevole e che appunto voi tutti potete in qualche modo giudicare io adesso mi rivolgo alla professoressa Lanzillo Laura Lanzillo per fare la stessa domanda appunto su sovranità chiedendo anche a lei la dimensione europea se è possibile se è possibile in qualche modo più nel suo discorso e appunto se è l'articolo 11 quanto e come incide il nostro articolo 11 della Costituzione nella limitazione della sovranità e per quali fini ovviamente anche qui Laura è solo un suggerimento ti invito a fare la tua relazione come meglio credi grazie 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 per l'invito e grazie a tutte e a tutti per essere qui io vorrei spostare un pochino il discorso rispetto a quello che hanno fatto i miei colleghi provare a guardare la politica da un altro punto di vista che è il mio punto di vista ma che cerca appunto di riprendere il punto di vista e di inserirsi in una discussione in un dibattito che ha molti decenni ma che purtroppo ancora è molto inascoltato che è il punto di vista delle donne che non vuol dire lo dico chiaramente mettere delle donne insieme agli uomini questo non cambia niente le donne non sono questo appunto ti puoi sedere a tavola anche tu ma vuol dire cambiare il modo di guardare le cose provare a guardarle da un altro punto di vista provare a pensare una diversa modalità della relazione politica parto da una constatazione purtroppo io faccio la storia che penso a lo politico però devo dire che devo constatare che tutta la grande produzione politica e giuridica della modernità non è stata capace come si era sperato di essere davvero strumento di governo delle democrazie e di tutela della pace basta che ci guardiamo intorno quindi questo è un problema da assumere in prima battuta noi studiosi cioè dobbiamo fare i conti con questo e col fatto che oggi noi ci troviamo di fronte al ritorno della dialettica fra ordine e conflitto che è la dialettica potentissima della sovranità a cui la sovranità cerca di dare una risposta anzi la dà in un modo particolarmente efficace ma questa dialettica a me sembra che oggi non sia più in forma produttiva così come era stata come è stata quella della sovranità ma è tornato di nuovo nelle forme del diritto del più forte era il primo libro della Repubblica di Platone siamo di nuovo là e della assolutizzazione dell'ostilità il riferimento che ha fatto Primanello a Gaza penso che parli da solo ma anche insomma quello che succede nelle trincee dell'Ucraina questa è certamente l'evidenza del fallimento della promessa dell'ordine post sovrano del neoliberalismo e infatti noi oggi ci troviamo di nuovo a parlare di sovranità qualche anno qua era parola indicibile totalmente cerco ferro vecchio da buttare via perché appunto questo nuovo ordine di fioritura delle libertà e di godimento ci avrebbe reso tutti i libri da qualsiasi conflittualità da qualsiasi asprezza durezza e quindi anche dalla necessità della politica e invece mi sembra che il risultato sia stato la rottura del legame sociale che io vedo come il grave problema delle nostre democrazie e la crescita del senso di insicurezza a tutti i livelli a tutti i livelli insicurezze di vario tipo come si è risposto come hanno come a fatica molte democrazie provano a rispondere assistiamo a nuove forme di autoritarismo anche questo non è un caso ci sono delle connessioni vanno studiate e che a me appaiono come il volto sfigurato della sovranità e che certamente sono frutto di quei processi di svuotamento della democrazia costituzionale di cui ci ha parlato Nello prima e che anche Marcello ricordava se assumiamo seriamente l'analisi del presente e questo tendenzialmente almeno la filosofia dovrebbe fare e quindi lasciamo perdere ogni retorica di corto respiro che per una buona ventina d'anni ci hanno dato sulla fine della storia la fine delle ideologie che voleva in realtà dire la fine della politica quelli erano i nomi non si aveva il coraggio di dire questo ma questa era forse la speranza allora o la linea è quella appunto di ripensare la sovranità e di pensare a processi di ricostituzionalizzazione del politico che è ciò che ha proposto Nello prima e quindi una ricostituzionalizzazione dello Stato democratico un ripensamento una presa di nuovo in carica dei rapporti fra capitale e lavoro una grossa questione attenzione sulle disuguaglianze sociali da questo punto di vista quindi rimettendo in campo ciò che di produttivo c'era nella sovranità ovviamente pensata all'altezza del ventunesimo secolo e non di obs questo è evidente oppure secondo me si può spostare lo sguardo vale a dire provare a uscire dall'alternativa a fare ordine e conflitto e a provare a mettere in campo una nuova immaginazione politica che in fondo era quello che in qualche modo a cui accennava Marcello sul finire del suo discorso dunque io partirei da una constatazione noi mi chiedevi Pasquale dell'Europa siamo cittadini italiani certo ma cittadini europei e cittadini del mondo globale questo ormai è evidente e siamo tutti esposti inevitabilmente alla reciproca contaminazione allora le alternative sono due o l'accettiamo governando anche la paura che c'è nell'incontro del diverso è normale la paura segnala i nostri limiti è del tutto normale o e quindi proviamo a entrare in reciproca solidarietà oppure possiamo trincerarci in un'illusione immunitaria tiriamo su muri confini simbolici ma anche fisici sperando di proteggerci allora a me sembra che negli ultimi vent'anni abbiamo fatto questa seconda soluzione fallitissima come ci dimostra la realtà di tutti i giorni ma magari provare anche la prima visto che quest'altra è andata male provare la prima cioè aprirci la contaminazione vuole dire dal mio punto di vista dare inizio a cose nuove che ciò che Anna Arendt scriveva è la politica la politica è dare inizio a cose nuove è l'immagine arendtiana della politica e della libertà cioè aprirsi a un'immaginazione politica diversa differente che ripensi lo statuto del soggetto e del politico e riconfiguri simbolicamente lo spazio democratico su nuovi vincoli la relazione l'interdipendenza la vulnerabilità la solidarietà con relazioni che a questo punto diventano inevitabilmente squilibrate su un'immaginazione del nostro legame sociale dipendenze plurimi e singolari basta con questa affermazione del sé proprietario di se stesso un prometeo che ormai ha perso anche quello che di tragico aveva nel mito questo individuo autonomo proprietario che rivendica a sé la sua autonomia ormai solo con prepotenza e volontà di potenza immaginarci in un altro modo la politica è immaginazione della realtà tutto lo spazio politico è immaginato non esiste nella natura la battuta che faccio con i miei studenti e studentesse la polis non l'avete mai trovata sugli alberi è stata immaginata e poi realizzata questo fa la politica a me sembra che questa sia la grande difficoltà del presente una chiusura dell'immaginazione politica invece è questa che va rilanciata contro per provare a superare tutte le difficoltà e le secche in cui certa modalità di ordine politico è finita per quello che penso potrebbe essere l'ora anche qui magari ci proviamo tanto è andata male fino adesso di dare una seria parola alle donne le donne sono state tradizionalmente identificate con l'amore la cura i sentimenti tutta l'arte tutta la letteratura ci racconta così questo patrimonio ereditario che certamente connota le donne però anche le ha fortemente penalizzate perché questo ha fatto sì che finissero confinate nel privato e nella pura gestione dei rapporti familiari questo ha anche privato le donne come scriveva una grandissima studiosa nonché grande amica prematuramente scomparsa che è Elena Pulcini ha provato le donne anche di provare di avere il diritto alla passione di manifestare se stesse proviamo a pensare da questo punto di vista proviamo il pensiero delle donne parla da decenni ormai dell'immaginazione di un soggetto in relazione invece che un soggetto autonomo e proprietario chi è? è un soggetto che ha attenzione per l'altro ha empatia ha desiderio ha passione per l'altro questa se la integriamo proprio col pathos della passione col pathos delle passioni politiche può essere non solo una risorsa ma anche una risorsa rivoluzionaria credo perché può finalmente provare a valorizzare quella capacità di relazione che può e deve investire non solo l'altro come prossimo ma la comunità il nostro altro la relazione la comunità la città la natura è il grande problema del presente il mondo vivente e allora alle figure classiche dell'ordine politico moderno e anche dell'ordine politico della sovranità che sono da una parte promette o dall'altra narciso si può sostituire la figura simbolica della madre a ricordarci che noi non nasciamo atomi individui isolati ma nasciamo legati nasciamo legati questo è ciò che ci connota e alla generosità della madre e della figura simbolica della madre noi dobbiamo dobbiamo la vita in questo riconoscere questo debito che ci viene che ci strutture da cui viene fuori la nostra libertà è proprio rivoltare il modo di guardare le cose ma inevitabilmente la comunità politica ci appare in un altro modo l'altro ci appare in un altro modo la relazione con l'ambiente ci appare in un altro modo la mia postura nel mondo cambia ci chiedevamo che cos'è la politica la politica è la cura della polis attraverso la capacità di prendere decisioni non ci dubbio rispondendo la funzione di rappresentanza dei cittadini che richiede un grande senso di responsabilità siamo forse quasi alla definizione banale a partire dalla modernità certamente la politica è inscindibile dalla democrazia vale a dire dalla democrazia non banalmente solo come forma di governo ma come modo di stare al mondo cioè dall'attiva partecipazione di tutti alla cosa pubblica la res pubblica è ciò che la Arendt chiamava un agire di concerto nella quale Arendt vedeva un vero e proprio miracolo sapendo della difficoltà e anche della grandiosità che vuol dire appunto il vivere politico è un miracolo perché presuppone un agire mio insieme nel rispetto della pluralità ora certamente tutto questo è molto difficile e molto complicato però credo che se la politica perde l'aggancio con questa immaginazione diventa pure gestione degli interessi egoistici lotta per la conservazione del potere tradimento delle rappresentanze visione miope inseguimento di policies e basta per lo più inefficaci come si rivelano incapaci di affrontare la contingenza e abbracciare ideali più ampi se mi lasci ancora un minuto prego io potrei concludere a questo punto ma così io rischierai di tradire il pensiero delle donne che dà anche un altro insegnamento molto importante che è sostenere che la filosofia non fa solo l'analisi ma prova anche a fornire risposte prospettive sentieri inediti sempre Elena Pulcini lo chiamava un normativismo eretico un provare ad andare non proporre schemi astratti ma provare a valorizzare le risorse intrinseche al soggetto e al sociale e allora fare questo vuol dire avere anche il coraggio di lanciare nuove parole d'ordine ne ho pensate tre per questa serata responsabilità intesa come responsabilità per uguaglianza e sostenibilità nuove parole d'ordine della politica perché queste tre parole perché mi sembra che tutte e tre guardino al futuro perché inevitabilmente pensano a una comunità in relazione responsabilità uguaglianza e sostenibilità non si possono fare da soli e perché impegnano ad agire insieme cioè richiedono quella gira di concerto che Arendt appunto lo ripeto diceva è il miracolo della politica ecco io ci vorrei ancora una volta provare grazie 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 Laura Ranzillo per questa analisi molto chiara molto interessante da una prospettiva ulteriore rispetto a quella dei nostri due precedenti interlocutori questa volta mi sembra che rispetto alla lezione ottava di politica di qualche settimana fa ci sia maggiore convergenza tra i nostri interlocutori che pure hanno notoriamente per chi li conosce come dire prospettive e pensieri molto diversi però mi sembra che si possano tracciare dei punti di convergenza e ognuno da una prospettiva particolare ha analizzato questo concetto in un modo molto interessante mi piacciono appunto la trilogia di responsabilità uguaglianza e sostenibilità che individuano quasi Presidente Conte un programma direi o comunque un'ispirazione verso un programma che poi mi sembra essere molto presente anche nelle linee programmatiche appunto del movimento responsabilità uguaglianza e sostenibilità per chi conosce appunto il movimento bene grazie quindi direi che possiamo fare una pausa verso il pubblico nel senso raccogliere 3-4 domande che volete rivolgere ai nostri interlocutori allora riprendiamo sono esattamente 4 mi pare buonasera mi chiamo Sebastiano Oriti e appartengo al gruppo territoriale del terzo municipio la mia è una riflessione e una domanda non ho sentito parlare questa sera se non una volta solo dalla professoressa mai pronunciare il termine cittadino e da questo vorrei partire perché penso che oggi siccome parliamo di politica e parliamo di sovranità parliamo di costituzione oggi siamo diventati semplicemente delle teste che votano e che votano una scheda senza avere nessun controllo di quello che accade dopo allora la domanda è a tutti sia ai professori che al nostro scrittore perché non avete inserito tra diciamo le azioni o le cose che sono necessarie per avvicinare la politica ai veri obiettivi della costruzione anche la partecipazione grazie c'era una domanda qui Carlo sì buonasera io sono Francesco Castellana vengo dalla Sicilia appartengo a un gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle e mi occupo proprio di formazione la mia più che una domanda in realtà è una suggestione un input perché nel momento in cui ho appreso che il Movimento 5 Stelle nella nona lezione invitava questi pensatori illustri allora mi sono chiesto ma cosa sta succedendo di così importante all'interno del Movimento 5 Stelle e a questa domanda ho risposto dicendo che a questo punto in che categoria può essere inserito il Movimento 5 Stelle rispetto all'ente sovranità ente popolo e politica cosa voglio dire in un'occasione il professore Predorosi dice che il Movimento 5 Stelle è un attuatore del pensiero di Ernesto Laclau inconsapevolmente io invece voglio dire questo che siamo stati sin da sempre consapevoli di quale fosse il principio e l'azione politica del Movimento 5 Stelle in quelle in quell'azione di confederazione delle istanze sociali ecco allora la domanda è questa la via da percorrere per evitare la deriva del di una sovranità accentuata verso convendicole di potere è quella della catena equivalenziale o lo scarto si trasforma in un in un deserto senza acqua come dice Davide Tarizzo e allora a quel punto quali potrebbero essere le contromisure rispetto a quello che già nel nostro nella nostra nazione nel nostro territorio il Movimento 5 Stelle ha fatto con tutte quelle misure che conosciamo bene grazie grazie abbiamo due domande laggiù in fondo Carlo per favore buonasera a tutti sono Giuseppe Artizzone Movimento Municipio 14 una domanda prendendo spunto da un dottor Veneziani che diceva che il processo è avviato quindi lo so dell'arte è questo qui sorenità che viene sempre più limitato in favore di terzi terze entità come possiamo se possiamo gestirlo questo processo per dare anche una speranza diciamo di gestione di possibile cambiamento grazie 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 la mia domanda è sul rapporto fra sovranità e ruolo dello Stato in economia nel 1919 Grammci scriveva che la produzione deve essere una funzione della sovranità quando il modello di economia mista con ruolo di indirizzo e coordinamento dello Stato era pienamente vigente nel nostro ordinamento l'Italia è stato un paese effettivamente sovrano e anche una potenza economica come è stato ricordato quando poi quel modello è andato dileguando siamo diventati un'economia da bar siamo diventati un paese terzializzato e sicuramente non una potenza economica quello che vorrei chiedere è come vive il rapporto fra il ruolo dello Stato nell'economia quindi legato alla sovranità e la dimensione più ampia del contesto europeo che è un problema che si pone indubbiamente i governi del Presidente Conte hanno fortemente riproposto questo tema oggi mi sembra che siamo da tutt'altra parte grazie spendiamo la domanda della signora anche Carlo sono Antonella Traino di Gruppi Territoriali di Genova la domanda è questa oltre che una riflessione il discorso che c'è sempre meno partecipazione delle persone alla vita politica disaffezione quindi poi al voto eccetera facendo parte anche dei gruppi territoriali quindi cercando il contatto con le persone quindi cercando di avvicinare anche quelle persone cioè cosa si può fare secondo voi praticamente poi per avvicinare coloro che o sono delusi o ormai non si interessano più principalmente i delusi perché chi non si interessa più probabilmente a volte secondo me perde anche gli appuntamenti elettorali oppure gli ultimi giorni magari guarda su internet qualcosa e prima che capita poi va a votare e soprattutto i giovani perché anche tra i giovani spesso mi rendo conto che neanche si sa che magari tra due mesi tre mesi ci saranno le elezioni europee quindi anche loro chiaramente saranno chiamati a votare quindi cosa si può fare di pratico proprio per avvicinare i delusi e riavvicinare i delusi e avvicinare chi magari nutre poco interesse grazie grazie vogliamo prendere l'ultima sì grazie grazie a tutti cercherò di essere brevissimo perché per me innanzitutto sono venuto non faccio parte del alcun gruppo editoriale io sono del movimento 5 stelle sono iscritto sto al municipio settimo di Roma e le cose non funzionano mai bene ma soprattutto mi allaccio a quello che ha detto il professore Petirossi la dire Rosseto per me il nocciolo della questione e che qua vorrei che si battesse appieno è quel moralismo senza morale che ormai ha pervaso la cittadinanza per realtà si diceva che si parlava male poco della cittadinanza per me della cittadinanza si è parlato si è parlato di ogni punto ma se questi punti non hanno come elemento unificante da parte di chi è direttivo di chi è indirizzante perché la politica dovrebbe fare questo indirizzare una società no? l'avete detto pure voi allora se continua a essere sempre così prevaricante questo moralismo senza morale non ne usciremo mai io ricordo a me non interessava ma quando sono andato a vedere là l'ultima manifestazione a Roma che c'era Grillo dei 9 euro di questi qua c'era tanta gente che aveva studiato quando Grillo ha parlato proprio della manifestazione della volontà del cittadino come quel vecchio che aveva riparato la buca a cui è stata messa la multa io ho visto per esempio i telegiornali mi hanno fatto schifo perché hanno parlato tutti quanti del fatto che aveva parlato del passamontagna allora mentre c'è stato Berlusconi che è stato addirittura onorato a cui diceva ma è una butata è uno scherzo a Grillo hanno detto che aveva parlato del passamontagna allora per me finché non ci sarà gente dalla statura della statura di un Mazzini della statura di un diciamo un Moro un De Gasperi insomma a me mi pare mi diceva che ho chi è meglio di te allora a sto punto chi è però meglio di me perché se è soltanto uno che ha studiato di più o che ce l'ha fatta di più nella vita non è meglio di me grazie mi dispiace grazie grazie vorrei che si facesse una battaglia contro questi che hanno degenerato la Repubblica è chiaro grazie grazie l'appetito viene mangiando nel senso che all'inizio erano 4 siamo andati a 5 dovremmo chiudere prendiamo se sono brevissime domande istantanee le possiamo prendere possiamo far fede sul fatto che siano istantanea prego buonasera a tutti sono Simone Palombi volevo fare una richiesta volevo che si chiarisse un attimo il ruolo dell'informazione italiana nell'allontanare i cittadini dalla politica perché qui parliamo di un 40% di astensione alle ultime elezioni e inoltre il 50% adesso alle ultime elezioni in Abruzzo ma più o meno questa è la media nazionale degli ultimi 2-3 anni questo 50% che va a votare 50% al massimo 55% viene indirizzato verso degli esponenti politici che accettano come diceva il dottor Veneziani accettano supinamente passivamente le decisioni europee o di draghi o statunitense o della nato domanda chiarissima qui abbiamo avuto un solo politico che è andato in Europa e ha fatto gli interessi dell'Italia e sta in questa sala tutti gli altri quindi è un problema di informazioni che indirizza il voto verso politici supporti domanda chiarissima chiarissima non era istantanea però abbiamo capito la domanda grazie istantanea promesso prego in pratica l'ha ceduta perché non va a votare quindi parliamo di quale sovranità e se vediamo tutte le democrazie mondiali dove c'è una democrazia non votano e la seconda cosa sul discorso della sicurezza del popolo della gente non c'è sicurezza perché in questo paese non c'è welfare dove c'è il welfare c'è un po' più di sicurezza quindi è quella la battaglia che dobbiamo fare grazie le domande sono sei però mi sembra che alcune di queste cose siano state già trattate i nostri interventi il ruolo del cittadino la partecipazione dove si collega un movimento magari lo chiediamo anche al presidente Conte astensionismo informazione quindi Laura a te la parola per prima e poi andiamo in ordine ovviamente le domande sono tantissime richiederebbero una riflessione intera di un'ora e quindi appunto diventa complicato io volevo solo segnalare alcune cose i problemi molte delle questioni che sono venute fuori sia dalle nostre relazioni sia dalle domande che sono state fatte sono quelle che possiamo che chiamiamo negli studi le patologie della democrazia e che erano già state individuate perché appunto dobbiamo pensare che la democrazia ha un suo funzionamento e non è un oggetto strano appena arrivato sulla terra ha una sua storia ha una profondità è stato fortemente studiato e le patologie della democrazia erano già state evidenziate dal grandissimo all'existe Tocqueville quando va negli Stati Uniti negli anni 30 dell'Ottocento e per la prima volta vede la democrazia perché ovviamente a casa sua che era francese la democrazia non c'era e si rende conto di tutti i rischi della democrazia individualismo indifferenza delega astensionismo rischio della torsione autoritaria rischio delle passioni tristi erosione del legame sociale vede già anni 30 dell'Ottocento gli Stati Uniti sono piccolini ancora perché ha questo funzionamento però comincia anche a riflettere su tutto quello che si può fare certo la democrazia funziona così ha dentro il rischio terribile che è la tirannia della maggioranza però ci si può lavorare e tutta una linea del pensiero democratico penso a Dewey al pragmatismo americano ha pensato fortemente in fondo anche la nostra democrazia era andata in quella linea che appunto per vivere in democrazia bisogna educarsi alla cittadinanza democratica e quindi il ruolo fondamentale della scuola pubblica che qua è saltato completamente nell'indifferenza totale mentre penso che questo dovrebbe essere qualcosa che ci angoscia ci angoscia profondamente e ci rende tutti insicuri perché l'importanza dell'istruzione anche appunto per poi riuscire a parlare meglio con come diceva con le persone e però non rinunciare perché la cosa che sento è sempre successo è stato colpa di quelli è stato colpa di quelli quelli hanno fatto così e noi cosa possiamo fare sopra ci abbiamo questi qua io non credo così così comincia a farti qualcosa cominciano tutti a fare qualcosa nel nostro piccolo a mostrare a cambiare il discorso pubblico questa è forse è probabilmente la responsabilità più grossa che hanno oggi i nostri rappresentanti politici di provare a cambiare il discorso pubblico di smettere di lamentarsi di smettere di dare la colpa a qualcun altro e provare a mettere nuove parole è difficile è lunga certamente ma Nello che è molto più competente di me in questo ti può raccontare quanto è lunga la storia della sovranità non per questo si rinuncia alla sfida io penso che la politica è un'azione ed è un'azione fatta in comune ognuno per la sua parte ognuno con la sua responsabilità e ognuno lottando per davvero non lamentandosi perché cioè è molto comodo però non funziona così e ancora una volta di nuovo mi sembra che da questo punto di vista la pratica di lavoro che hanno le donne sia un po' diversa una maniera un po' diversa di affrontare le cose chiudo qui grazie una risposta molto generale che mi sembra però si indirizzi a tutte le risposte in qualche modo Marcello prego sì io cerco di raccogliere come dire un po' il filo conduttore delle varie domande in questa richiesta di che cosa si può fare qual è il punto di partenza il rimedio e devo subito esprimere il mio disincanto cioè la mia difficoltà a trovare una prospettiva perché i problemi si possono enumerare all'infinito le soluzioni si imbattono in una serie di difficoltà che sono insormontabili ma io ne cito soprattutto due che sono come dire nemiche della politica e non tiro in ballo come al solito le responsabilità oggettive che ci sono da parte della K cioè di questo potere sovrastante cito proprio due problemi che riguardano i singoli cittadini uno la convinzione che la politica non possa cambiare nulla cioè chiunque va al governo non riesce a fare molto e questo produce disaffezione produce non voto e produce quelle forme diciamo così di rifiuto della politica l'altra che è una malattia strutturale dell'Occidente e non soltanto dell'Italia è la convinzione che tutti i nostri problemi abbiano natura e soluzione individuale cioè sono problemi tuoi non sono mai problemi della città non sono mai problemi popolari non sono mai problemi di una comunità e allora questi sono i grandi problemi contro cui dobbiamo batterci cioè il problema di riattivare il senso della politica comporta inevitabilmente la necessità di capire che noi non siamo individui ma siamo collegati da una serie di fili che si chiamano legami sociali legami comunitari che costituiscono l'orizzonte condiviso entro il quale noi viviamo ecco la convinzione della nostra autosufficienza che ci è stata indotta anche dai mezzi tecnologici dagli smartphone eccetera è quella che produce maggiore disaffezione ai confronti della politica poi ci può essere l'informazione che depista ci possono essere le responsabilità di chi ci vuole solo consumatori e non attenti e vigili critici di quello che accade nel presente ma il fenomeno è soprattutto quello quindi riattivare il legame comunitario aggiungo solo un'altra considerazione che riguarda l'Europa ed è una considerazione diciamo strutturale sull'Europa noi avevamo due modi per fare l'Unione Europea uno era quello di integrare le nazioni attraverso un progetto condiviso che passasse anche dalla sovranità dei popoli l'altra era quella di disintegrare le nazioni e immaginare un'Unione Europea che fosse sovrastante rispetto alle nazioni ai popoli agli stati noi abbiamo scelto noi coloro che hanno deciso questa Europa hanno scelto quest'altra Europa cioè un'Europa fondata sulla disintegrazione delle nazioni non sull'integrazione delle nazioni e questa è la ragione per cui l'Europa può essere un soggetto economico quando riesce in qualche modo a esprimere una linea ma non è un soggetto politico non è un soggetto culturale non è un soggetto militare non ha una sua politica estera se non al rimorchio degli Stati Uniti non ha cioè una sua capacità di esprimere sovranità e decisioni cioè la sovranità europea noi l'abbiamo cancellata nello statuto iniziale di fondazione dell'Europa e quindi credo che quello sia diciamo il punto di partenza da cui si dovrebbe cominciare ma come cominciare chi deve farlo ecco io non vorrei portare qui i germi del mio scetticismo personale voi siete un movimento politico quindi non voglio essere diseducativo nei vostri confronti quindi mi ritiro nei miei libri come l'amore ed altri contesti totalmente impolitici e lascio a voi la palla lascio soprattutto a Giuseppe Conte il compito di rispondere alle domande grazie che fra un attimo sentiremo nella sua relazione finale quindi prego Nello sì domande molto stimolanti bisognerebbe ragionarci veramente a lungo allora già stato detto la partecipazione no no per me è fondamentale quando ho richiamato la sovranità democratica è partecipazione però per partecipare bisogna pensare che se se la maggior parte delle persone si è convinta credo anche giustamente che appunto non serva che tanto qualsiasi cosa succede qualsiasi cosa votiamo tanto è inutile comunque si fa in un certo modo è difficile rimotivarla ad andare a votare è chiaro che oggi questa defezione democratica in atto dovrebbe molto allarmare preoccupare perché quando non vota la metà o anche di più addirittura e i votanti sono meno della metà è un segnale chiaro di una crisi di legittimazione di fondo vuol dire che le persone non credono più non tanto a quel politico all'altro ma non credono più nella fondatezza dell'obbligo politico cioè della pretesa di obbedienza vuol dire che è in questione qualcosa di radicale mi sarebbe bene occuparsene perché poi a un certo punto succede poi l'evento arriva non so da dove se da fuori da dentro ma comunque non si può a lungo giocare con una radicale crisi di legittimità che poi è crisi di legittimazione perché nel mondo moderno il potere ha bisogno di raccontare se stesso di trovare uno specchio nei cittadini e di raccogliere dai cittadini le loro istanze è una pedagogia reciproca nei momenti virtuosi migliocori diciamo che bisognerebbe provare a ricostruire ricostruendola le condizioni perché è chiaro che sono venute meno le condizioni strutturali e anche culturali direi la domanda questa è molto interessante però bisogna farci proprio un seminario cioè allora io penso questo il momento populista è stato importante e potrebbe tornare anche perché a naso fra nuovo fatto di stabilità possibile austerità futura fibrillazioni finanziarie e guerra io non lo so se poi i cittadini si prenderanno proprio tutto quello che arriverà quindi è possibile che ci sia una nuova reazione il problema è che poi bisogna riuscire a trasformare questa positiva reazione perché in fondo era ancora guardate che se uno va a votare per dire un no o anche per dire un vaffa come era vuol dire che ci crede ancora un po' nella politica della democrazia se non ci va più vuol dire che non ci crede più ma questo è il risultato di cose che sono accadute e questo è un discorso che bisogna avere il coraggio di fare in generale anche per il governo di oggi così come per la scorsa legislatura voi vi rendete conto che la legislatura si è inaugurata sull'enorme successo dei 5 Stelle e anche della Lega e che ha visto il suo primo governo il primo governo che comunque era fondato sulle due forze che avevano vinto le elezioni quindi aveva una peculiare legittimità democratica si è chiusa quella legislatura col governo cioè con una barzelletta con una presa in giro perché il governo è surreale voglio dire è surreale non è possibile che una legislatura che si inaugura su quell'energia politica si chiuda non con una cosa leggermente diversa con l'opposto con la sua negazione viene quasi da pensare che ci sia stato un intento punitivo dare un esempio allora poi le persone normali i cittadini avranno molti avranno detto vabbè allora è utile bisognerebbe usare delle parole un po' il romanesco cioè c'è stata a coionare è vero tra l'altro questa anche questa arroganza unita superficialità del potere per cui si pensa che si può fare qualsiasi cosa e poi le persone continuano a votare o comunque non succede niente io la vedo penso sia un po' pericolosina cioè starei attentino perché poi è chiaro che se no a un certo punto potrà succedere qualcosa anche di sgradevole perché per esempio mi chiedo questa defezione democratica questa massa di persone che oggi non vota siamo sicuri che un domani non siano pronti a andare dietro a qualche avventura non lo so e può anche essere così cioè è un allarme noi dovremmo registrare questo allarme e cercare di trovare le soluzioni che condivido non sono facili perché anche ora c'è un governo che è legittimato democraticamente ma sicuramente l'ha vinta l'elezione all'ultima elezione si è votato un po' meno hanno votato un po' in meno ma comunque è un fatto poi si ritrova a fare l'agenda Draghi parliamoci chiaro con qualche così qualche cosetta un po' compensativa pseudo identitaria anche qualche cosa un po' surreale diciamo però stiamo parlando di poche cose e anzi con un'ansia per durare di dare rassicurazioni assolute che mi verrebbe da dire non è necessario si può anche servire un po' meno guardate si può servire un po' meno e credo che non ti mandino via subito no? non è necessario però ora e questo è il segno della debolezza dell'Italia e oramai si è ingenerata l'idea che se non sei totalmente funzionale non reggi e qui viene il discorso dei media però occhio perché è vero i media che in Italia sono in mano a quanti gruppi editoriali? ah praticamente una volta c'erano molti giornali vabbè oggi sono poco letti i giornali però sono sempre rilevanti in funzione della sfera pubblica del riconoscimento del dibattito pubblico o quello che è stato detto quindi un po' contano ovviamente beh una volta c'erano giornali diversi con posizioni diverse e anche che facevano inchieste vere con una pluralità che esprimevano una pluralità autentica oggi francamente i media tranne rarissime eccezioni ma insomma mi sembrano funzionali al discorso del potere e sono dei cari da guardia e sono dei cari da guardia di cosa? del vicolo esterno dei poteri forti globali e di chi in Italia diciamo li rappresenta e fa da garante diciamo così e allora è dura perché significa che appena ti metti un po' di traverso si accendono delle lucine c'è un'allerta e cercano di farti fuori siccome la politica è debole magari ci riescono pure allora il punto è ricostruire una politica popolare su vaste e solite basi popolari che rafforzi un'eventuale alternativa realistica io sono per il realismo però una vera proposta alternativa anche perché io dovessi indicare una parola d'ordine un'alternativa c'è non è vero che there is no alternative che era la frase della Thatcher non c'è alternativa che non si può fare niente c'è solo quella via no un'alternativa c'è anche realista anzi ce n'è più di una perché ce ne sarà una di destra di sinistra poi si aprirebbe l'enorme questione delle categorie di destra e sinistra ma ora non c'entriamo ecco però comunque ci saranno posizioni diverse allora rispetto a questo il Movimento 5 Stelle come dire è nato sulla spinta che aveva un senso io l'ho subito riconosciuto aveva delle ragioni profonde e poi ha fatto fatica a tradurre diciamo in egemonia politica in una politica di sostanza e so forte questa spinta perché per tanti motivi certo anche per la spinta esterna diciamo ma certo anche per una difficoltà perché poi trasformare un movimento che nasce mettendo insieme l'iterogeneità utilizzando risorse anche nuove tipo il web in un corpo politico non è facile mi verrebbe da dire però che se quella logica su cui è nato il Movimento 5 Stelle si rafforza sta accadendo questo è un segnale su con contenuti culturali di cultura politica diciamo forti e anche con il coraggio di esprimere qualche posizione di rottura rispetto a quei vincoli prima si è stato chiesto l'economia mista io sono totalmente d'accordo esatto rivolgo l'economia mista c'è il socialdemocratico non è che voglio Keynes voglio una statua di Keynes in ogni città va bene questo non è che voglio chissà che oggi però è versivo dire ciò le cose che diceva Luciano Gallino un vecchio signore grande studioso italiano che se l'avessero ascoltato un po' di più i cosiddetti progressisti magari forse si evitavano qualche qualche bagno diciamo di qualche perdita radicale di riconoscimento perché la verità è questa che c'è io sono molto d'accordo capisco la suggestione del cominciare da capo alla Ann Arendt però c'è un problema perché quel discorso anche quello delle donne non deve essere catturato dallo pseudo progressismo neoliberale o liberal che non è la tua posizione ma sai bene Laura che è molto a rischio purtroppo è molto a rischio quindi siamo in una è giusto l'immaginazione è chiaro che la chiave è l'immaginazione cioè tu per non dico ma anche per fare le riforme lo dico la rivoluzione oggi riforma è parola bandita cioè è diventata impronunciabile visto che tipo di riforme ci hanno fatto fino a mo però insomma diciamo in astratto sarebbe anche se presa come riforma strutturale riforma vera che incide era buona cosa è chiaro che per cambiare qualcosa sul serio ci vuole immaginazione ci vuole anche capacità di generare nuovamente cioè ci vogliono dei serbatoi culturali no ed è giusto andare a cercare dove possano essere senza pregiudizio anche trasversalmente diciamo così dopodiché bisogna anche avere una propria linea realista cioè il che vuol dire che con le bisogna sapere che ci sono delle forze in campo e ti tengo l'occhio che quanto più sarà efficace proprio perché ben piantato per terra è realista e capace di produrre effetti anche minimi ti si metteranno contro e quindi tu hai bisogno di avere una grande politica di sostanza cioè non si può fare solo il populismo deve diventare è tattica poi deve diventare una cosa ecemonica Gramsciana naturalmente non penso al partito Gramsciano che non si può più dare però quindi è una cosa all'altezza di oggi che sarà sempre molto legata a dei legami come dire anche più plurini più fluidi per certi aspetti però almeno ci siano i contenuti dentro e poi bisogna prendere una posizione una scelta di campo l'Europa è quella che è stata è quella che ha descritto Marcello e che tanti di noi hanno descritto bisogna avere il coraggio di dire che l'Unione Europea è ordo liberale è un'altra cosa dall'Europa culturale politica infatti non lo è per niente oggi non riesce a svolgere questa funzione che al limite avremo in mente e quindi bisogna cambiare strada rispetto a quella e provare a ricostruire una cosa diversa lo so che è un discorso difficile ma è l'unica strada di verità perché è l'unica che può dare un margine per fare una politica in cui le persone possono riconoscersi perché pensano è un vero cambiamento ma anche la meno ma perché non l'ha fatta sta banca pubblica pure la Lega si era riempita la bocca di questo oppure per il Sud ci sono gli studi guardate la questione nessuno c'è la deconazione dell'autonomia differenziata la questione meridionale ci sono studi pepe l'ho letto uno qualche tempo fa finché non c'è stata la cassa forbice estrema fra nord e sud c'è stata la cassa in una prima fase positiva poi è peggiorata l'intervento straordinario si erano molto avvicinati dopo con l'idea che esistesse solo la questione settentrionale riabisso cioè forbice drammatica fra nord e sud ed è guardate una questione grossa ci insegna al sud ci sto lì se ne vanno c'è un problema reale di lavoro e del resto il movimento ha preso dei voti anche nelle ultime elezioni anche perché ha parlato a quella c'è una base sociale a cui bisogna poter parlare ma questo ha a che fare con vincoli anche esterni allora noi individuiamo tre cose individuate quattro cose cinque cose fra cui la banca pubblica fra cui tutti gli strumenti che servono per rifare veramente l'economia vista e vediamo che succede si incazzeranno gli altri però se c'è una politica forte dietro credo che forse almeno potremmo provare a difendere l'idea che c'è un'alternativa grazie siamo convinti che un'alternativa c'è del resto veniva suggerito anche da una delle domande laggiù in fondo e l'hai ripreso esattamente nel tuo riferimento all'economia mista e alla convergenza nei tassi di crescita economica tra nord e sud nell'unico periodo che si è verificato ovvero tra il 1952 e il 1975 i tassi di crescita al sud sono stati superiori di quelli del nord ed è stato l'unico periodo in cui il nord è cresciuto o meglio il sud è cresciuto di più rispetto al nord dopo lo sprofondo e coincide esattamente con la fine della cassa per il mezzogiorno anche una riabilitazione storica di certe io ho avvertito scusatemi questa parente se non rubo tempo al presidente gli attacchi nei decenni scorsi che sono stati fatti alla cassa del mezzogiorno mi ricordano tantissimo gli attacchi recenti al reddito di cittadinanza abbiamo tanto da costruire presidente Conte a te le conclusioni io ringrazio gli illustri ospiti perché anche questo è stato un dibattito particolarmente ricco di spunti su gestioni anche molto vivace e addirittura anche appassionato io ho scoperto un nello prete rossi particolarmente appassionato e veramente questo ci ha fatto ci fa molto piacere permettetemi di anche da giurista un poco di raccogliere quello che è il percorso di un'idea di sovranità perché io poi credo avete nei vostri interventi avete richiamato più volte anche le radici di questa idea di questo concetto credo che le radici siano importanti per ricostruire la parabola di questa idea è un concetto che si afferma con lo stato moderno sono anche reminiscenze più antiche ma in realtà è con lo stato moderno che diventa un concetto politico giuridico e viene sulle prime utilizzato per affermare la pienezza del potere statuale il principio di unità politica di soggettività giuridica questo soprattutto nel Seicento sovranità lo dice anche prete Rossi è stato anche meritorio per chi ha curato questo volume di di Tergrim per la terza e questa questo pregevole dialogo e Grimm lo riconosce sovranità a due elementi soprattutto la concentrazione del potere e la sua territorializzazione oggi sono cose scontate però se facciamo un passo indietro noi venivamo è stato un processo rivoluzionario quando si è affermata la sovranità perché ha accompagnato il superamento di quelle stratificazioni di regole e di rapporto che erano frutto delle incrostazioni feudali per cui il potere veniva imbrigliato in questa serie infinita di rapporti di relazioni e di soggetti quindi la logica del comando supremo il potere di esprimere questo comando si afferma e c'è anche quella famosa formula siamo in periodo di monarchie assolute per cui rex est imperator il regno suo della serie state buoni con le mire universalistiche sia del papato che dell'impero che a governare ci pensiamo noi e questa è la radice dello stato moderno e di questi passaggi gli aspetti sono fondamentali il l'individuo non è più confinato nel suo status la mediazione del potere pubblico viene per la prima volta e progressivamente ovviamente è un processo affidato alla pubblica amministrazione quindi i segni di questa rivoluzione sono secondo me tre sostanzialmente la legge è creata la legge è creata dal sovrano prevale sulle consuetudini l'amministrazione statuale si sostituisce progressivamente appunto alle mediazioni politiche dovute alle stratificazioni feudali dei sceti delle classi e degli status e per esempio per quel tempo fondamentale a partire dallo stato moderno le milizie che prima appartenevano ai signori che si aggiravano sui territori non sono più consentite è consentito soltanto ed è legittimo l'esercito che fa capo al sovrano che assommerà in sé il potere pieno ed esclusivo di comando in pace e in guerra poi lasciamo stare tutte le teorizzazioni da Baudin Hobbes che sono poi teorie giuridiche anche molto sofisticate però in sostanza sovranità diventa monopolio del diritto da un lato per altri monopolio della forza della coercizione fisica e il passaggio qual è? quando dal monarca dal re che si contrappone al popolo la sovranità viene trasferita al popolo e alle assemblee siamo quindi al moderno stato di diritto una superiore unità giuridica e politica e il processo più importante è la spersonalizzazione perché prima c'è la personificazione re che esprime il comando e poi ovviamente c'è da costruire lo stato moderno quindi sovranità viene identificata con lo stato lo stato acquista una personalità anche se è una finzione perché non esiste una persona giuridica è un affizio poi vengono le teorie le dottrine di Kant Montesquieu che sono compatibili e sì perché nel momento in cui è operato la spersonalizzazione dal sovrano e attribuisci la sovranità allo stato ci sta che può lo stato dividere il potere nelle sue varie articolazioni e quindi distinzione poi del potere legislativo del potere esecutivo che si compongono in una superiore unità dello stato stesso questa spersonalizzazione quindi ci dà la dimensione diciamo contemporanea come riconosce Dieter Grimm la nascita dello stato cito lui dello stato costituzionale con la nascita dello stato costituzionale siamo all'età contemporanea la sovranità conosce la sua definitiva spersonalizzazione perché l'unico principio di legittimazione del dominio non può che essere la democrazia e quindi sovranità significa sovranità popolare e veniamo alla nostra costituzione con questo salto la nostra costituzione è chi accoglie pienamente questa le dottrine della sovranità popolare e riconosce all'articolo 1 l'articolo più importante anche in un ordine se volessimo gerarchico che la sovranità appartiene al popolo con la precisazione che è stata detta che il popolo però la esercita nelle forme nei limiti della costituzione ovviamente la sovranità non può non accompagnarsi ed è stato detto alla partecipazione dei cittadini a questo gioco democratico ecco perché rimane fondamentale l'articolo 3 l'articolo 3 perché pone in senso dinamico l'obiettivo di far partecipare quanti più cittadini possibili a questo gioco alla vita demografica la vita politica economica sociale culturale sentirsi protagonisti perché altrimenti l'articolo 1 senza l'articolo 3 non ha nessun valore è semplicemente una petizione di principio un'affermazione generica una declamazione vuota e astratta ed è questo il tema che avete anche toccato nei vostri interventi e anzi avete toccato un tema che è così sentito anche da parte degli studiosi che tutti gli studiosi che si sono occupati di sovranità recentemente hanno abbandonato quelle dottrine quelle teorie formali hanno cercato di entrare più concretamente più realisticamente nelle dinamiche della sovranità c'è stato chi ha ragionato di una sovranità ormai in mano alla classe economica dominante all'elite dominante chi ha ragionato ormai di una sovranità in mano più modernamente contemporaneamente ai gruppi anche mediatici quei gruppi editoriali che ovviamente governano l'informazione così fondamentale tant'è che poi ne è nata tutto il discorso della disintermediazione con i social che ha rotto questo monopolio del potere e del comando elite in qualche modo che detengono comunque il potere poi c'è stata ovviamente l'epoca della globalizzazione con l'epoca con lo spazio globale lo spazio per cui ciascuna impresa a quel punto lì può tranquillamente trasferire e espandere le sue attività economiche grazie alle reti infotelematiche cosa che prima era inconcepibile ovviamente il discorso si complica perché con la globalizzazione noi abbiamo un'economia che rivendica un assoluto primato vanno in difficoltà il diritto che è preordinato sempre a cercare di creare un coordinamento una coerenza di disciplina e va in difficoltà anche la politica perché non riesce più elaborare delle strategie sinergiche condivise incisive nello stesso tempo si complica perché noi perdiamo la sovranità è stato anche detto perché nel frattempo gli stati contemporanei costituzionali si ritrovano avviluppati in una rete di vincoli giuridici che finiscono per imbrigliare il potere decisionale che è all'interno di uno Stato che faceva capo al singolo Stato e ovviamente poi alcune di queste realtà sovranazionali pensiamo all'Unione Europea oggi tocchiamo con mano come in tantissimi settori di attività diventa determinante e non riusciamo neppure a cogliere i processi decisionali e anzi abbiamo un'impressione che spesso corrisponde alla realtà che logiche euro-burocratiche riescano ad essere più incidenti non solo dei singoli governanti nazionali quindi figuratevi dei cittadini di noi cittadini oggi l'Unione Europea ci pone dei grossi problemi perché forse il deficit maggiore che noi abbiamo è che abbiamo uno spazio territoriale se torniamo alle vecchie concezioni della sovranità quindi si è tentato di creare uno spazio comune un mercato comune in particolare ma non c'è un demos europeo e non è facile crearlo ma non è facile crearlo prima perché quella che dovrebbe essere l'espressione diciamo di una sovranità rappresentativa il Parlamento è poco incidente però pensateci forse una delle più grosse dei più grossi ostacoli alla costruzione di un demos europeo è anche la lingua cioè noi oggi andremo noi oggi tra un po' tra qualche mese andremo a delle elezioni in cui se volessimo restituire quel contesto di sovranità che tradizionalmente abbiamo sperimentato negli stati nazionali noi oggi dovremmo avere delle elezioni in cui addirittura non c'è la divisione nazionale ma c'è una competizione con candidati che sono votabili dappertutto con liste uniche in cui c'è un grande dibattito e a quel punto lì ciascuno cercando di sorvolare rispetto ai confini nazionali cerca di proiettare ovviamente il proprio impegno in una dimensione realmente europea la lingua è una delle più grandi ovviamente i più grandi ostacoli per una campagna elettorale concepita in questi termini ovviamente non parlo solo dell'unione europea ma quando parlo di vincoli condizionamenti parlo di BCE parlo di Banca Mondiale Fondo Monetario Internazionale il WTO parlo della Nato parlo anche dei player delle grandi imprese multinazionali che ormai sono fortemente incidenti nello spazio globale ecco qui tutti questi player tutta questa fitta rete di vincoli di obblighi di ordine politico economico sociale anche militare ovviamente ci sottraggono sovranità si allontana diciamo anche la distanza addirittura non è neppure più misurabile tra noi cittadini che subiamo l'effetto di queste decisioni e i contesti in cui le decisioni vengono prese e soprattutto si crea una spersonalizzazione così forte che non si riesce neppure a capire dove e come vengono presi e definiti chiaramente in trasparenza questi processi decisionali ecco perché una delle ragioni secondo me per cui abbiamo sempre più la crescita dell'astenzionismo eppure la sovranità è un concetto l'abbiamo messo al centro di questo incontro e raccogliamo ovviamente con questi incontri proprio il suggerimento che ci ha dato dei nostri illustri ospiti dobbiamo lavorare dobbiamo elaborare dobbiamo costruire una cultura politica e dobbiamo diffonderla al di là che sarà egemonica o no dobbiamo creare dibattito ed è la ragione per cui questa sera siete qui anche qualcuno visto un quotidiano che ha detto ma il Movimento 5 Stelle invita anche relatori di formazione conservatrice e che facciamo ci parliamo tra di noi grazie dedicare un articolo addirittura al fatto che una scuola di formazione sia stato invitato da un relatore un pensatore assolutamente originale solito come i veneziani secondo me è il segno mi rifaccio a un suo recente libro di come viviamo ormai in una cappa mediatica ci si meraviglia anche di questo e veniamo a noi Dieter Grimm conclude il suo volume io lo sottoscrivo completamente dice oggi sovranità non può che significare difesa della democrazia e allora qualche conclusione qualche pensiero finale dobbiamo assolutamente rivendicare la sovranità non è un concetto superato non è un concetto di cui vergognarsi anzi tutt'altro ne va della tenuta delle nostre democrazie per contare per tornare a far contare la voce le esigenze dei cittadini che si allontanano dalla partecipazione questa partecipazione deve essere democratica effettiva libera nello tu hai detto i cittadini possono anche andare e consegnare una scheda bianca possono anche protestare è importante che vadano a votare mi ha fatto venire in mente Saramago saggio sulla lucidità se vi è capitato di leggerlo la più grande protesta quello che fa saltare quasi l'ordine costituito i poteri costituiti e qui ci vuole veramente la fantasia di un raffinato scrittore come Saramago è in questo paese in questo quando tutti i cittadini il giorno delle elezioni nessuno si muove la mattina il pomeriggio vanno tutti in massa e poi si scopre che il 75% ricordo a memoria vota scheda bianca si paralizza tutto tutto il sistema tutte le autorità vanno in tilt ne nasce una racconto fantastico noi pensate addirittura nell'ottobre dello scorso anno quindi qualche mese fa è stato assegnato un collegio senatoriale tra l'altro di valore di forte impatto simbolico perché era il collegio del senatore Berlusconi con una percentuale di votanti del 19% la nostra democrazia è malata è una patologia il fatto che ci sia questo crescente astensionismo e io sono d'accordo con la professoressa Lanzillo quando dice non c'è una soluzione c'è la responsabilità sicuramente di chi vi parla che si sente chiaramente partecipe evidentemente di una classe politica che non riesce più ad attirare a coinvolgere i cittadini non riusciamo più a dialogare con loro però sicuramente non c'è una soluzione soltanto c'è da lavorare e c'è da lavorare sull'educazione civica noi abbiamo un ministro il ministro attuale che con grande solennità ha annunciato che ha stanziato da pochissimo un importante finanziamento per l'insegnamento nelle scuole dell'educazione civica abbiamo fatto i conti per 40.000 scuole verranno assegnati 7 euro per istituto scolastico voi concludo voi sentite che il popolo sia sovrano come dice la Costituzione nelle forme nei limiti della Costituzione mentre a Gaza è in corso una carneficina e l'Italia continua ad astenersi a non avere posizioni forti di forte condanna nei vertici internazionali voi sentite che il popolo sia sovrano mentre ci accodiamo alla strategia decisa da altri senza far sentire farci sentire nei vertici internazionali senza affermare i valori pacifisti della nostra Costituzione contro un escaletto imprevedibile in Ucraina io non credo che la sovranità del popolo sia un sovranismo da operetta del governo Meloni per cui i cittadini dovrebbero limitarsi a votare un premier andare una volta in una cabina mettere neppure queste e sovranità mettere una X in una cabina per votare un premier con pieni poteri peraltro con l'astenzionismo che c'è un premier che rappresenterebbe quindi la minoranza dei cittadini ma avrebbe lo strapotere di imporre di tutto senza freni anche al Quirinale a un Parlamento asservito e a tutta la filiera delle autorità di garanzie che verrebbero eletti da un Parlamento sotto ricatto la solanità del popolo ce lo siamo detti partecipazione e promuovere istituti di partecipazione diretta coinvolgere i cittadini anche referendum consultivi ascoltare le emergenze del Paese andare ad esempio come faremo a raccogliere le firme per una proposta di legge di iniziativa popolare sul salario minimo legale sperando che alcuni parlamentari che non hanno problemi di stipendio la smettano di voltare le spalle alla volontà dei cittadini che sono stupidi vivere con stipendi da miseria non è tutela della sovranità popolare ma un sovranismo teatrale drammaturgico quello di chi mostra i muscoli della nazione con il blocco navale subito ripetuto con un mantra che poi non esiste non viene realizzato e non è realizzabile nella realtà tutela della sovranità per noi è lavorare seriamente per far rispettare l'Italia come innanzitutto impegnandoci per gestire i flussi migratori soprattutto attraverso i corridoi umanitari e controllare questi flussi nel segno della garanzia della sicurezza e dell'integrazione di chi arriva nell'ascolto dei problemi dei cittadini soprattutto delle periferie quando questa integrazione non funziona e non volgerci dall'altra parte facendo finta che non è un problema nostro ma di chi vive in queste periferie è pretendere sovranità non sovranismo una gestione solitaria in Europa anziché cucolare gli amici sovranisti come Orba che vogliono lasciare l'Italia sola a gestire l'immigrazione per il semplice fatto che loro hanno confini terrestri e non come noi marittimi la sovranità nel senso intesa dalla Costituzione va protetta per far sì che si prendano decisioni a favore dei tanti e non accontentare sempre i pochi in particolare è sovranismo cedere ai poteri delle banche dopo aver annunciato una norma sugli extra profitti e ritrovarsi senza neppure i due preannunciati miliardi di euro del prelievo degli extra profitti quando questi grandi interessi alzano la voce e invece mettere le mani nelle tasche sempre dei soliti cittadini per ovviamente cercare di concludere e tirare una riga finale al bilancio dello Stato cittadini che ovviamente già sono sommersi dalle tasse addirittura tasse sui pannolini dei pochi bambini che nascono da giovani coraggiosi con stipendi bassi e con rapporti lavoro precari non è sovranismo da propaganda ma tutela della sovranità del popolo italiano dire no grazie a chi nel periodo più duro della pandemia che ci vedeva con l'acqua alla gola ci ha detto in Europa e qualcuno anche all'interno accontentatevi di questo benedetto mess prendete il mess con la sua sorveglianza finanziaria mentre invece è sovranità e tutela della sovranità rinunciare a questo cappio battersi per cercare di trovare una soluzione innovativa che coinvolga tutta l'Europa in un piano straordinario di finanziamento sul debito pubblico i famosi 209 miliardi e sovranismo e sovranità e non sovranismo da operetta andare in Europa e chiedere un cambio radicale di prospettiva da un'unione economica a una unione europea garante dei diritti sociali del welfare troppo spesso trascurati a Bruxelles chi straparla di nazione e lo dimostrano i fatti recenti è andato in Europa a dire sì a un accordo che ci imporrà tagli attualmente stimati in almeno 12 miliardi di euro di lire l'anno questo per l'Italia questo significa che andremo a colpire la sanità alla scuola ecco questa non è tutela della sovranità popolare a cui ci richiama la nostra costituzione nessun italiano darebbe mai un mandato per andare in Europa a dire a dare la licenza di tagliare diritti sovranità non è andare al governo e per andare al governo passare prima dall'ambasciata americana per raccomandarsi e non è neppure sovranità pensare di tutelare la durata del proprio governo rassicurando Washington che si seguirà fedelmente questa strategia militare fallimentare con la connessa e scalese concludo voglio dire a chi ci ascolta e in particolare ai giovani che pensano di non andare a votare alle europee addirittura le elezioni europee ci appaiono ancora più inutili di quelle italiane l'astenzione ormai in Italia sottolineo noi l'abbiamo anche per quanto riguarda i governi territoriali quindi non è semplice indicare un nome e scegliere un leader che ci rappresenterà perché per quanto riguarda i comuni e le regioni succede già questo ma non c'è anche qui sufficiente partecipazione allora la sovranità popolare va difesa lo dico ai giovani ogni giorno nelle piazze nei dibattiti con la partecipazione una partecipazione che deve unirsi alla consapevolezza allo studio all'approfondimento perché quello è il principio che ci consente di non lasciare ad altri la carta bianca una cambiale in bianco per il nostro futuro ad altri che sono sempre più pochi dobbiamo dire la nostra sull'Italia sull'Europa che vogliamo sulle ingiustizie del lavoro sui diritti fino a temi enormi come il ritorno al dialogo una prospettiva di pace dobbiamo far rispettare dentro fuori dai nostri confini in tutte le sedi del confronto internazionale i nostri diritti i nostri valori costituzionali perché l'unica forma di sovranità credibile non di facciata è la sovranità costituzionale quella sì è veramente democratica grazie grazie buona serata a tutti e ci vedremo con la lezione magistrale del prossimo mese ad aprile arrivederci grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti